Diminuiscono i ricoveri, 3 sono i pazienti che sono stati dimessi e si arriva a 43 ricoverati negli ospedali di Caltanissetta e Gela per ciò che riguarda i reparti covid, ma intanto i positivi sono 223 riscontrati alle ultime 24 ore, 71 sono di Gela, 51 sono di Caltanissetta, 33 sono di Niscemi e 25 sono di San Cataldo. E intanto si conta ancora un decesso. Per ciò che riguarda nel dettaglio il numero dei positivi ricoverati nel reparto di malattie infettive, come si diceva, sono 43, a Caltanissetta sono 6, mentre invece a Gela sono 9, 623 il numero dei positivi in quarantena domiciliare in città, mentre sono 709 i positivi in quarantena domiciliare a Gela, 4 sono i pazienti ricoverati provenienti da altre province, 2778 invece sono i pazienti in quarantena domiciliare in tutta la provincia di Caltanissetta.